Ciao a tutti ragazzi, oggi vi volevo far vedere il vestito di Barbie del Giappone poi vi farò la collezione di questi vestiti allora, prima di tutto questo fiocchetto ha lo strappo, quindi è removibile e sotto c'è una connellina che è proprio a parte, quindi si può togliere allora, questo vestito costa 8 euro, sono usciti anche gli accessori che vi faccio vedere dopo allora, iniziamo proprio dalla connellina è tutta rosa, come questo fiocchetto e qua ha tipo una fascetta dorata allora, ho poi la giacca, non so come si chiama questa cosa che portano i giapponesi comunque va così, tipo la vostra Barbie la mettete e cammina così ve li consiglio tantissimi questi vestiti a me il terzo appendino penso che sia l'ultimo praticamente, per chi è nuovo del canale io colleziono questi vestiti che praticamente sono i vestiti di tutto il mondo di Barbie io, diciamo, li ho quasi tutti abbiamo, cioè ho tre appendini e sul nuovo appendino ho questo con questo è uscito il nuovo appendino, scusate ho la valicella e non riesco manca a parlare allora, non so che c'entra però la valicella per parlare forse varicella è un po' strano vabbè, lasciamo perdere allora la giacca dentro è tutta a fiori con questo sfondo tipo d'oro fiori bianchi e rosa invece dietro cioè, è favoloso sembrano soli a me dall'aspetto scrivetemi nei commenti a voi che sembrano queste cose o stelle o soli e invece lo sfondo qua è un rosa un po' più intenso non rosa pastello o fucsia è tipo un rosso nel rosa un rosa nel rosso e niente spero che questo video vi sia piaciuto se è così mettete un pollicione in su e iscrivetevi al canale e poi io voglio farvi vedere una cosa è una bombolina che mi hanno dato guardate questa scatola qua è la cosa per farsi illuminare guardate e scrivetemi nei commenti io vorrei farci un armadio di Barbie quindi farò un video quando la decorerò e vado a prendere gli accessori cioè ho detto gli accessori invece ne è solo uno ed è questa rosellina che appunto li legate nello shignon alle Barbie che come sapete i giapponesi fanno sempre i shignon e niente ci vediamo al prossimo video consigliatemi dei nuovi video fatemi delle domande per l'ask che vi suggerisce in tutti i video grazie delle domande per chi le farà ciao niente insulti